Giovedì 25 maggio, ancora un appuntamento con la nostra quotidiana Rassegna Stampa. Partiamo come sempre con i titoli nazionali, il Corriere della Sera e la Repubblica, il Corriere, partiamo proprio dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'Europa sul PNRR, fate presto il titolo di apertura scelto dal giornale, le raccomandazioni di Bruxelles sul deficit, il catasto e i balneari e sull'autonomia, l'Europa dice un rischio per la spesa pubblica. Ancora si torna a parlare dell'alluvione, tra l'altro a questo è dedicata anche la fotonotizia, allarme sanitario, mille frane, tensioni sul commissario e Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, dice non può stare a Roma. Ancora sulla prima pagina del Corriere la fotonotizia è dedicata allo sport, la Coppa Italia, la Fiorentina battuta in rimonta con una doppietta dell'argentino Lautaro. Dunque l'Inter vince la Coppa Italia e Lautaro, scrive il Corriere della Sera, è ancora re del gol. Infine la cronaca sulla prima pagina del Corriere, siamo a Napoli, spari al bar, ferita una bambina, mangiava il gelato, ci sono due fermati, uno di loro è un minore. Andiamo su Repubblica, adesso dunque ancora proseguiamo la lettura delle notizie nazionali. In primo piano qui si parla dell'alluvione in Emilia Romagna, Meloni tradisce Bonaccini invece il titolo di apertura di Repubblica. Dopo l'abbraccio al governatore, la Premier prende tempo e vuole negargli la nomina a commissario della ricostruzione. I presidenti Zaia, Occhiuto e Toti dicono assurdo che sia lui dietro la frenata di Fratelli d'Italia c'è l'obiettivo di prendere la regione. E sul PNRR, sul fisco e sul debito, l'Europa boccia il governo su tutti i fronti. Dunque ritroviamo le notizie già lette sul Corriere, mentre la fotonotizia qui è dedicata alla morte di Tina Turner. La regina del rock, scrive Repubblica, è morta a 83 anni, è morta in Svizzera e fra i suoi successi appunto Simpli, the best del 1989. Andiamo adesso sulla Gazzetta del Mezzogiorno, passiamo dunque alle notizie locali e ritroviamo la cronaca pugliese in apertura. Le morti grigie, titola La Gazzetta del Mezzogiorno e fa riferimento a una notizia di cronaca delle scorse ore avvenuta a Monopoli, dove due operai di 62 e 64 anni hanno perso la vita, travolti da una valanga di detriti. Il dossier INAIL poi invece certifica che le vittime sono sempre più donne. Le infrastrutture, il treno diretto da Bari a Napoli, sì, ma in quattro ore il ministro Salvini dice avrete il treno dall'estate. Ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, ecco vedete una notizia che riguarda la premier Giorgia Meloni, che ha querelato il professor Luciano Canfora per una frase che il docente disse un anno fa in un liceo di Bari, definì l'attuale premier, allora l'opposizione è una neonazista nell'animo. E poi anche qui sulla prima della Gazzetta ritroviamo appunto l'addio a Tina Turner, la star americana aveva 83 anni ed era malata da tempo. Il Corriere del Mezzogiorno, adesso dunque proseguiamo la lettura delle notizie locali, anche qui si parla delle morti bianche, dunque le morti sul lavoro. Nella giungla delle morti bianche titola Il Corriere del Mezzogiorno, ennesima tragedia causata dal crollo di un costone, il vescovo di Conversano dice sia fatta chiarezza. Appunto altri due operai edili vittime del lavoro e lo spesa al Publicon Report dice fuori legge il 20% delle aziende. Vi sta da vicino Meloni e quel feeling speciale dalle orecchiette al G7 del 2024 perché Giorgia ama la Puglia, dunque un approfondimento dedicato alla Presidente del Consiglio. Le pagine interne del Corriere del Mezzogiorno, la politica pugliese ancora dal necrologio ai bus, la corte dei conti così bacchette partiti, pioggia di sanzioni sui gruppi ma sono già pronti i ricorsi. E poi un ampio approfondimento alla tragedia sul lavoro accaduta a Monopoli, nel cantiere seppelliti dalle macerie, però nel taglio basso della pagina ecco vediamo una lunga intervista a Giuseppe Favale, sindaco di Conversano, Vito e Cosimo lì soltanto per pagarsi la pensione. Il vescovo vuole la verità, il sindaco poi sotto shock, lutto cittadino ai funerali. Nel barese il 20% delle aziende trovate non in regola. Ancora la lettura delle pagine interne del Corriere del Mezzogiorno, ticket online, pagamenti in tilt, a Bari tornano le code dei pazienti. Per giorni fermo il servizio delle prestazioni sanitarie, anche ne dico le tabaccherie. Montanaro dice problema tecnico sulla piattaforma MyPay, adesso però è tutto a posto. Ecco ancora la cronaca canosa, la rete dei tombaroli, reperti rubati venduti all'estero, 16 arresti nelle scorse ore, in tutto però 51 gli indagati, blizzi in 6 regioni, sono stati recuperati 3.500 manufatti tra vasi, monili e monete. Andiamo adesso sulla Repubblica, edizione barese. L'economia locale in primo piano, lo sbarco di MyPay senza aiuti pubblici, il colosso della chimica, scrive Repubblica, arriva nella zona industriale di Bari e acquisisce l'area della famiglia Shanatico. Investiti 5 milioni sarà il primo stabilimento del gruppo nel sud Italia. E poi vedete la fotonotizia inevitabilmente dedicata agli operai morti in provincia di Bari a Monopoli. Andiamo nelle pagine interne di Repubblica. La banda dei reperti, tombaroli, ricettatori e spuntano le case d'asta. Dunque il primo piano è dedicato alla notizia di cronaca che ci viene da Canosa di Puglia, a Blitz a Canosa, appunto, in campo i cacciatori di Puglia utilizzati per i latitanti. In fondo si tratta di ricercati particolari. E poi vediamo ancora in primo piano una lunga intervista al procuratore di Lecce, Leone De Castris, che dice che la mafia ricca fa paura, attenti anche al turismo. Dunque un lungo approfondimento dedicato a questo. Ancora dei virgolettati di Le Castris condivido in pieno le preoccupazioni che aveva espresso il procuratore Rossi sui legami fra clan e borghesia cittadina. E poi ancora i boss che diventano imprenditori hanno maggiori possibilità rispetto alle aziende sane. Non ricorrono più alla violenza. Torniamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Adesso però con le pagine locali, dunque dedicate alle province pugliesi e lucani. Partiamo dal capoluogo pugliese con la provincia di Bari. In primo piano la sanità neonata vegetale dopo un'infezione indaga la procura. Agli etofine invece la storia di Angela da Putignano a Foggia per la riabilitazione. Costa Sud, in autunno i primi cantieri, avanti con progettazione ed espropi. Torre Quetta e Bella Vista e i lotti interessati dagli interventi di riqualificazione. In Basilicata, adesso ancora con la Gazzetta del Mezzogiorno, le province di Potenza e Matera. Campi allagati e il Lidi invasi dai detriti. Il Metapontino ora prova a ripartire. Dunque in Basilicata si fa la conta dei danni in agricoltura dopo le forti piogge a San Basilio. I Lidi invece si preparano all'estate. Dunque la fotografia è anche dedicata proprio a questa notizia. E poi l'intervista al segretario Cisl Cavallo che dice un patto sociale per rilanciare il territorio lucano. E poi un ampio approfondimento all'interno. Nelle pagine interne dedicate alla festa di San Gerardo, patrono di Potenza. La città si prepara alla Parata dei Turchi del 29 maggio. Un video racconta appunto la tradizione legata a questa festa. Torniamo in Puglia, andiamo nella BAT ancora con la Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco vedete la cronaca. Qui l'operazione perquisizioni e sequestri anche in Campania e Basilicata. 16 in tutti gli arresti per traffico di reperti, il blitz e dei carabinieri. Ed ecco vedete appunto la fotografia. Con i carabinieri che tengono in mano uno dei monili appunto recuperati, un vaso. Basca per le acque piovane ha chiesto maxi finanziamento. Siamo a Trani, l'amministrazione comunale spera di ricevere 200 mila euro per ultimare il progetto. Il sindaco Bottaro, siamo fiduciosi ma non abbiamo certezze sulla celerità dei tempi. In Capitanata adesso ancora con la Gazzetta del Mezzogiorno, dunque la provincia di Foggia. I rifiuti qui costeranno sempre di più 30 euro a tonnellata senza differenziata. L'ex consigliere comunale Cislaghi dice la magistratura fermi il piano di Amium. Il Salento adesso ancora con la Gazzetta, dunque le notizie di Lecce e di Brindisi. A Lecce, 700 alloggi popolari occupati abusivamente. Ricorso al TAR sulle assegnazioni ad Ostuni. Il primo piano però è dedicato alla cronaca. Si torna a parlare dell'omicidio Stasi avvenuto a Francavilla a Fontana. Scena muta dal jeep dei due presunti baby killer. Ricordiamo l'omicidio del 19enne Paolo Stasi avvenne il 9 novembre del 2022 a Francavilla a Fontana. E chiudiamo la rassegna stampa ancora con le notizie nazionali di taglio economico, questa volta con il sole 24 ore. Bruxelles, sottotiro i ritardi del PNRR e le incognite della riforma fiscale. sono le raccomandazioni dell'Unione Europea a presentare prima possibile le proposte di modifica del piano. Flat taxi, nico e complessa, l'autonomia differenziata mette a rischio i conti. Dunque ancora il monito di Bruxelles all'Italia sul PNRR in primo piano questa mattina su Tutti i Quotidiani. Noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito a voi tutti. Una buona giornata. Grazie per averci seguito a voi.